Il mio compito è quello di spiegarvi come funziona questo processo ma anche magari dire due parole come ci siamo arrivati perché come ricordava Christian all'inizio della mattina parte da lontano, è stato il frutto di tante discussioni, confronti, pensamenti e ripensamenti, passi avanti e passi indietro perché non era facile affrontare anche da un punto di vista metodologico il tema. La cosa su cui però ci siamo trovati più d'accordo in assoluto era la necessità di stare in ascolto innanzitutto di osservare quello che già c'è come suggeriva Michele D'Alena, quello che sta succedendo intorno a noi. Questa necessità tra l'altro ci è stata confermata strada facendo dalle persone che già si occupano di questo tema da tempo e che stiamo intervistando. Una di queste è per l'appunto Marta Manieri che ha parlato poco fa e che nell'intervista che l'abbiamo fatto, che potete leggere sulla pagina Collabora Toscana del portale Open Toscana, sulle interviste vi dirò qualcosa in più dopo. Insomma in questa intervista quando l'abbiamo chiesto ma secondo te una regione cosa dovrebbe fare per affrontare questo tema? Ci ha detto questa cosa che vi leggo. Dovrebbe ascoltare, conoscere, capire chi sono gli agenti e le associazioni che si muovono sul territorio. Ogni territorio ha focolai di innovazioni pazzesche in Italia. La prima cosa che dovrebbe fare un ente regionale è conoscerli, capire cosa fanno e condividere con loro un linguaggio comune che può avvenire solo da un ascolto attento. Quindi prima cosa mappare e conoscere. Ecco, questo è quello che stiamo facendo con Collabora Toscana. Prima cosa stiamo cercando i focolai di innovazione, gli attori che sono già attivi, quelli che potrebbero esserlo. E quindi abbiamo cominciato facendo una mappatura. Una mappatura che come diciamo noi sociologi, metodologicamente è stata una mappatura a cascata. Quindi abbiamo individuato prima alcuni soggetti, a questi soggetti abbiamo chiesto di indicarcene altri. In modo da cercare di coprire una rete sempre più vasta. E anzi, speriamo che oggi questa rete si arricchisca ancora. Secondariamente, l'altro suggerimento che abbiamo colto è cercare di costruire un linguaggio comune. Come lo faremo? Lo faremo innanzitutto con i tavoli di lavoro di oggi pomeriggio, di cui vi dirò a breve, ma anche con la raccolta di opinioni, punti di vista, contributi a persone che a livello regionale, nazionale e perché no anche internazionale ci possano dare una prospettiva su questo tema. Questi contributi sono pubblicati e saranno pubblicati nel corso del tempo sul portale e sono contributi commentabili. E questa è una parte importante dell'intero processo. E poi, come procederemo? Attraverso il co-design, attraverso una serie di incontri, di laboratori, in cui si discuterà, ci si confronterà proprio sui contenuti di quello che vogliamo sia poi il prodotto, l'esito finale di questo processo. Per arrivare alla redazione di un libro verde sulla economia della condivisione e della collaborazione in Toscana, che sarà una sorta di documento con le linee guida che la regione si dà e vuole dare su questo tema. In un processo che è un processo continuo di miglioramento, sperimentazione, aggiustamento, lo ricordava l'assessore nella sua introduzione. In sintesi, cerco di andare il più veloce possibile. Allora, questa è la nostra scaletta del tempo. Oggi siamo il 29 di giugno. Tra luglio e settembre si svolgeranno i laboratori di co-design. Se ci fosse qualcuno che fosse interessato a venire a dare un contributo, c'è questa possibilità, quindi ce lo segnali. Nel mese di ottobre, alla luce di quello che sarà emerso dai laboratori e da tutto il processo online che vi ho descritto poco fa, predisporremo una prima versione del documento di cui vi ho appena parlato e con l'obiettivo di arrivare a finalizzarlo, definirlo e poi presentarlo pubblicamente per la fine dell'anno. Che cosa succede oggi pomeriggio? Oggi pomeriggio abbiamo cinque gruppi di lavoro, gruppi omogenei, cioè i cinque attori della collaborazione come descritti da Cristian Giaione nelle sue analisi, si discuteranno fra loro creando l'occasione per una sorta di mappatura concettuale di questo tema. Avremo quindi un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del governo locale, diciamo così, un gruppo, quindi il settore pubblico, un gruppo di lavoro composto da imprese rappresentanti del settore privato, un gruppo di lavoro che abbiamo chiamato il mondo della conoscenza, quindi università, centri di ricerca, un gruppo di lavoro che riguarda, che invece coinvolgerà l'associazionismo, le organizzazioni, il privato sociale e un gruppo di lavoro che coinvolgerà invece la cittadinanza attiva. Questo sarà una sorta di laboratorio di riscaldamento che però è molto importante per il lavoro che saremo chiamati a fare sulla tematizzazione delle questioni che riguardano questo argomento. Come vi ho anticipato c'è anche una parte che in contemporanea, che comincia oggi, che si svolgerà sul portale. Dopo due minuti ve lo mostro. Abbiamo una serie di interviste, di contributi che andranno accrescendosi nel corso del tempo e che ci offriranno una panoramica sulla questione e che dovranno essere, ci auspichiamo, che saranno commentati e discussi attraverso la rete. Tra luglio e settembre invece affronteremo le questioni, questo per la parte che si svolgerà di persona, non online, affronteremo le questioni da un punto di vista tematico. Quindi i cinque soggetti che vi ho indicato poco fa, le cinque categorie di attori si confronteranno in modo misto sui temi. I temi come vedete sono piuttosto larghi, avremo un gruppo di lavoro tematico sulle infrastrutture, uno sui servizi, uno sui beni, uno sulla governance. Sono così larghi proprio per garantire il massimo possibile della contaminazione e anche della creatività. Abbiamo discusso moltissimo sull'individuazione di questi temi perché tenerli più stretti significava rendere il lavoro un po' più facile ma anche probabilmente impoverirlo. Tenerlo più largo si rischia invece un eccesso magari di generalità e di raccogliere poco. Insomma vedremo come andrà. Questa alla fine è stata la soluzione che dopo Skype call di ore abbiamo raggiunto. A dicembre speriamo di avere la presentazione pubblica di questo lavoro che ripeto dovrà auspichiamo che si allarghi nella partecipazione in modo davvero reticolare e collaborativo. Quindi partire piccoli per crescere speriamo davvero molto. Io ho finito, vi mostrerei proprio un minuto, so che siamo in ritardissimo, la pagina di Collabora Toscana. No? Forse non ve la mostro. Eccola. Allora, si accede alla pagina dalla home page di Open Toscana, sulla pagina come vedete c'è il calendario, ora non posso scorderlo io, quindi c'è il calendario degli appuntamenti, qui sotto, se possiamo aprire, no, no, ecco, se possiamo, sotto ci sono le interviste, ecco qui Collabora Toscana, entriamo dentro Collabora Toscana, no, vabbè non importa, ci sono le interviste, che per il momento sono solamente tre, ma saranno molte di più. E come potete vedere andando sul sito, in un luogo dove c'è una connessione migliore di questa, perché purtroppo questa sede è un po' infelice dal punto di vista della connettività, vedete che le interviste sono abbastanza brevi, facciamo una piccola sintesi, e commentabili. quindi, ecco la prima, va bene, non importa, va bene così. A questo punto si passa alla seconda parte della mattina, ridò la parola al maestro di cerimonie.